Ciao, stai per ascoltare il penultimo episodio di questa stagione. Con la prossima puntata, sempre dedicata al magnifico Dio Mede, Mitologia si prende qualche settimana di riposo. Approfitto di questa breve intro per un chiarimento su un particolare di questa puntata che potrebbe portare confusione. Secondo la teogonia di Esiodo, Afrodite nasce dalla spuma del mare fecondata dal seme di Urano e virato dal figlio Crono. Nell'Iliade, invece, la dea dell'amore è figlia di Zeus e di Dione, una divinità primigenia del cielo e del mare. Delle molte domande che mi sono state poste nelle scorse settimane, rispondo velocemente ad un paio. Un'altra domanda riguarda il re degli dèi che vede di buon occhio i troiani. Zeus ha studiato la guerra, come si dice a tavolino, con lo scopo di alleggerire il numero degli uomini che camminano sul petto della grande madre Terra. Anche se, diciamo, parteggia per Troia, a lui interessa comunque far piazza pulita, più che può, di questi fastidiosi e bellicosi esseri umani. Ora basta, ti lascio la puntata. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 153 Diomede l'inarrestabile Nella giornata di guerra che si è appena conclusa, un eroe sovrasta tutti quanti e entrambe le formazioni. Diomede, figlio di Tideo. Come ricorderai della scorsa puntata, Agamennone ha usato terribili parole offensive ed ingiuste nei confronti del giovane eroe, confrontandolo con il padre e con le sue azioni meravigliose. Diomede salta giù dal suo carro e la sua armatura emette un suono come di tuono che fa tremare i pulsi a chiunque all'intorno. E cosa sarà mai capitato? Beh, Atena è scesa dall'Olimpo e, invisibile agli uomini, ha appoggiato una mano sulla sua spalla. Lei, inviata dall'Olimpo, come ricorderai, ha spinto la mano di Pandaro a scoccare una freccia per uccidere Menelao. Quest'azione ha rotto la tregua che sussisteva tra Greci e Troiani. Il progetto di Atena non è ancora terminato. Ella farà forza sull'orgoglio del giovane Diomede appena rimbrottato da Agamennone. La Dea infonde nell'eroe forza e furore, in modo che fra tutti gli Achei la sua figura, quest'oggi, arrivi a conquistare una gloria eterna. Come si muove, Diomede pare stia bruciando di una luce che sfolgori. Sembra che le stesse spalle e la testa rifulgano d'oro. Si getta nel tumulto, dove gli scontri sono più intensi. Due figli di un sacerdote di Efesto lo attaccano. Una loro lancia gli sfiora la spalla. Diomede risponde uccidendo uno dei due con la sua. Sta per colpire anche il secondo fratello, quando Efesto in persona lo fa scomparire, avvolgendolo in una nube ed ombra per evitare questo dolore sul devoto sacerdote. Gli scontri infuriano e Atena parla ad Ares, il dio della guerra, convincendolo ad allontanarsi dalla mischia con lei. Se entrambi lasceranno gli scontri, il risultato della giornata sarà quella che Zeus desidera. Il re degli dèi si arrabbierebbe di certo nel vedere Atena che spinge gli Achei e Ares che pungola i suoi troiani. Atena, scaltra, ha così parlato ad Ares poiché ella ha già dato a Diomede tutta la forza per divenire inarrestabile. In questo modo, allontanandosi Ares dalle mura di Troia, nessuno, nessuno può fermare l'avanzata del figlio di Tideo. L'ardore di Diomede è così devastante che egli non riesce più a distinguere i nemici da amici, tanto che infuria nella battaglia come un fiume che rompe gli argini e tutto travolge, senza poter essere fermato. Pandaro, l'arciere figlio di Licaone, la cui mira pare essere infallibile, scocca una freccia, ora che Diomede è arrivato a tiro, e lo colpisce alla spalla destra. Diomede, che si ferma per un attimo, chiede ad un compagno Acheo, Stenelo, di cavargli dalle carni quel dardo amaro. Nell'urlo di liberazione della freccia, Diomede invia una preghiera a Zeus, che Pandaro possa arrivare a tiro della sua lancia, solo questo, e gli chiede. Zeus, naturalmente, non gli risponde, ma Diomede sente un'altra voce imperiosa sussurrargli nelle orecchie. Orsù, combatti Diomede e sconfiggi i troiani. Ho infuso il coraggio e l'intrepido furore di tuo padre nel tuo petto. Ora tolgo la nebbia che vela gli occhi degli uomini affinché tu possa distinguere un uomo da un Dio. Perciò fai attenzione. Se un Dio viene ad attirarti alla battaglia, tu non accettare la sfida. Ma se Afrodite, figlia di Zeus, entra in battaglia contro di te, non aver timore di colpirla con la tua acuta lancia. Così la dea degli occhi azzurri parla sommessamente a Diomede, dandogli nuova forza. Sono tanti, troppi, gli eroi che Diomede abbatte in quella giornata, troppi per essere elencati. Enea lo vede e corre da Pandaro, chiedendogli come mai ancora non abbia scoccato una seconda freccia per fermare l'audace eroe Argivo. Il figlio di Licaone conferma quello che Enea già sospettava. Una divinità combatte al fianco degli Achaï. La sua prima freccia avrebbe dovuto abbattere Menelao. Egli non aveva nemmeno mirato alla cintura, ma al petto. E fino all'ultimo, quella freccia, il petto stava per colpire. Qualcuno ha di certo deviato il dardo. E Diomede? Nessun uomo può combattere in quel modo, senza essere supportato da una forza divina. Le sue frecce, per quanto precise, non riusciranno mai a fermare quella furia. Decidono di salire su un carro e di portare attacco al figlio di Tideo. Come due dei, essi scendono dai promontori all'attacco di Diomede. L'eroe greco li vede arrivare e rifiuta di ascoltare il suggerimento di Stenelo che gli consiglia una ritirata strategica. Egli è affamato di questo mirabile scontro. Con parole di sfida, i quattro si affrontano. Pandaro lascia partire per prima la sua lancia, che trapassa fortissima lo scudo di Diomede, arrivando a sfiorargli il petto e facendolo quasi cadere. Il figlio di Licaone non fa in tempo a gioire di aver superato le difese di Diomede che questo, in difficoltà e ingenocchiato, spedisce la sua di lancia verso l'avversario. Atena corregge il tiro di Diomede e la punta della lancia trapassa la bocca Pandaro, prendendogli il vigore e la vita. L'eroe cade con grande fragore a terra, morto. Subito Enea salta giù dal carro, pronto a difendere con la vita le spoglie dell'amico caduto. Nessun Acheo si potrà impossessare dell'armatura di Pandaro. Diomede, disarmato, alza da terra una roccia, impossibile da sollevare da due uomini ben forzuti, e la lancia contro Enea colpendolo all'anca. Enea perde i sensi e cade. Afrodite, che gli è madre e lo ama più di ogni altro, appare e cingendolo con i suoi morbidi veli per ripararlo dai colpi degli avversari e dai cavalli imbizzarriti, lo porta con sé volando via. Diomede, cui Atena ha tolto la nebbia dagli occhi, vede chiaramente Afrodite e capisce quello che sta facendo. Ci getta subito all'inseguimento della dea e ricordando il suggerimento di Atena compie un'azione che nessun uomo mai avrebbe potuto fare. Indirizza la sua lancia verso una divinità. L'arma vola, attraversa i delicati veli della dea e la ferisce superficialmente al polso. Afrodite emette un grido acuto e lascia cadere Enea. Apollo interviene, mandando una nube nera sull'eroe. In quella nube nera, Enea è al sicuro degli occhi di chiunque. Nessuno lo può toccare o ferire. Dolente, nel cielo sopra Troia, Afrodite chiede in prestito i cavalli ad Ares per volare all'Olimpo. La notizia che porta dentro il palazzo di bronzo che sta sopra le nuvole è questa. I Danai combattono anche contro gli dèi. La madre di Afrodite, Dione, la consola dicendole che non ha vita lunga l'uomo che osi combattere contro gli dèi immortali. Le pone le mani sul polso offeso e la ferita guarisce immediatamente. Zeus consiglia la figlia di rimanere lontano dalla mischia che lasci questo fastidio ad Ares e Atena. Ma torniamo sulla Terra. Diomede, che vede attraverso la nube nera grazie alla quale Apollo protegge Enea, cerca di ingaggiare battaglia con il Dio, venendo respinto per ben tre volte. Al quarto tentativo, Apollo lo rimprovera, ricordandogli la sua stupidità. Combattere contro il Dio dell'arco è cercare di essere ucciso senza fatica e all'istante. È stato graziato, sinora, nei suoi ripetuti attacchi, ma se oserà muoversi di nuovo contro un Dio, la sua vita mortale non verrà risparmiata. Diomede è costretto a indietreggiare. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker. Scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio. Iscriviti a questo podcast. Iscriviti a questo podcast.